È un sequestro preventivo da 121 milioni di euro, quello eseguito dalla Guardia di Finanza di Milano nei confronti della filiale italiana di Amazon. L'inchiesta è quella della Procura di Milano a contrasto del fenomeno della somministrazione illecita di mano d'opera nel settore della logistica. Gli inquirenti ricostruiscono la filiera e ravvisano una frode fiscale nel quinquennio 2017-2022. È stato rilevato, scrive il procuratore di Milano Marcello Viola in una nota, che i rapporti di lavoro con la società committente sono stati schermati da consorzi filtro, per intenderci fornitori di primo livello, che a loro volta si sono avvalse di una moltitudine di cooperative, fornitori di secondo livello, che hanno sistematicamente omesso il versamento dell'IVA, nonché degli oneri di natura previdenziale e assistenziale. Ecco come funziona. C'è un caporale digitale, il termine viene usato dagli inquirenti, che organizza il lavoro dei singoli corrieri. È un software gestionale, un algoritmo che di fatto dirige dal di fuori i dipendenti delle singole cooperative che effettuano le cosiddette consegne dell'ultimo miglio di Amazon. Quelle, per intenderci, dal magazzino alla destinazione scelta online dal cliente. Questi fornitori di secondo livello vivacchiano spesso in una palude di irregolarità fiscali e contributive, di cui si avvantaggiano i fornitori di primo livello, i consorzi, e in ultima analisi chi sta al vertice della piramide, Amazon Italia Transport, che di fatto può agire nel mercato, dicono gli inquirenti, con prezzi competitivi. Proprio in forza del meccanismo del caporralato digitale, la società dispone di autisti suoi senza che siano suoi, senza che siano formalmente assunti. Rispettiamo tutte le leggi, commenta Amazon, e le normative vigenti in ogni paese in cui operiamo e richiediamo che le aziende che lavorano con noi facciano lo stesso. La società si dice pronta a collaborare. Il sequestro di queste ore è preventivo, si è detto. Dopo il 2022 i meccanismi non sono cambiati, né Amazon risulta aver adottato presidi per interrompere l'illecito. Nel solo 2023 i rapporti con i fornitori critici di manodopera ha generato ulteriori 30 milioni di IVA, ancora tutti da controllare. Carlo Inbimbo, SkyTG24